Avola ha sanzionato un'attività ludica priva di licenza per una somma di 2.000 euro. Agenti del Commissione di Avola nel corso di controllo delle polizie amministrative hanno sanzionato il titolare di un'attività ludica nel lungomare avolese. L'attività in questione si occupava di intrattenimento di natura ludica senza essere in possesso di alcuna licenza di polizia e occupando abusivamente solo pubblico comunale. Le sanzioni elevate ammontano a circa 2.000 euro. La Polizia del Stato con l'occasione avvisa gli utenti che desiderano intraprendere un'attività imprenditoriale che è necessario mettersi in regola osservando le normative previste nell'interesse degli avventori e anche degli stessi imprenditori commerciali.